Mai più discariche di rifiuti sul territorio comunale di Salerno. Parte infatti in via sperimentale per 12 mesi sull'intero territorio il progetto per il controllo attraverso fototrappole contro l'abbandono indiscriminato di rifiuti. La Giunta Comunale ha approvato, su proposta dell'assessore all'ambiente Massimiliano Natella, il progetto per l'installazione delle fototrappole. L'iniziativa è partita nel 2022 con l'avvio delle procedure che hanno portato all'approvazione di un nuovo regolamento già deliberato nello scorso Consiglio Comunale e alla redazione di un disciplinare per l'organizzazione del servizio che si avvarrà di Salerno Pulita ma anche della Polizia Municipale. Le installazioni partiranno fin da subito con la supervisione tecnica del settore, sistemi informativi e l'ausilio della Polizia Municipale. Gli impianti saranno mobili e potranno essere collocati a seconda delle criticità riscontrate sul territorio comunale. Da oggi finalmente possiamo partire con questo progetto che ha richiesto un percorso un po' lungo prima per l'approvazione della modifica appunto di un regolamento del Consiglio Comunale e poi per l'attuazione di un disciplinare che prevede ovviamente la tutela della privacy e una serie di altre circostanze che sono collegate. Da oggi quindi questo progetto sperimentale si può materializzare, abbiamo fatto già dei sopralluoghi. Questo progetto prevede il coinvolgimento diretto della società Salerno Pulita che si occuperà a proprio carico e a proprie spese per un anno di far installare le fototrappole e poi il processo sarà coordinato dal settore ambiente con la Polizia Municipale e i sistemi informativi. Quindi un lavoro corale che abbiamo fatto al Comune di Salerno per garantire sempre più decoro alla città, per cercare di facilitare il lavoro della rimozione delle discariche e per ridarguire un po' i nostri concittadini che purtroppo in molti casi non rispettano le regole. Quali zone saranno interessate? Lei ha già una mappa sua in mente? Beh, le zone sono determinate sicuramente dalle segnalazioni quotidiane che arrivano e dal lavoro quotidiano che fa Salerno Pulita. In realtà non intendiamo noi pubblicizzare le zone, ma ovviamente compariranno a un certo punto le fototrappole che saranno ovviamente come da normativa segnalate da un cartello. Ovviamente le fototrappole sono mobili, quindi a seconda delle circostanze e delle esigenze della città vorranno essere spostate nell'arco dei 12 mesi. Ovviamente questo per noi è un progetto sperimentale innovativo, ma rintendiamo ovviamente per il futuro prorogarlo, augurandoci che le segnalazioni siano sempre più ridotte e quindi che il fenomeno si possa ovviamente contenere senza l'ausilio di questi mezzi. Grazie a tutti.